Puglia migliore regione in Italia per efficacia clinica ed efficienza gestionale del sistema 118 con 5 province nelle prime 10, Taranto, Bari, Barletta-Andreatrani, Foggia e Lecce. I dati ISTAT relativi al quinquennio 2012-2016 indicano proprio nella Puglia un modello per l'emergenza territoriale del 118 di elevata qualità gestionale poiché assicura alla popolazione regionale un sistema estremamente veloce. È stata calcolata infatti una media di arrivo delle ambulanze sia in area urbana che extraurbana di 16 minuti e 8 secondi tra i primi posti in Italia e si tratta di tempi di intervento in caso di situazioni cliniche di gravità assoluta con pericolo imminente di perdere la vita, cioè i codici rossi, o di gravità intermedia potenzialmente evolutiva nel pericolo di perdere la vita, cioè i codici gialli. Il sistema 118 della regione Puglia può ben affermarsi come primo autorevole modello regionale di efficacia clinica e di efficienza gestionale relativo ai percorsi di rete tempo dipendenti previsti per le sindrome coronariche acute, considerato che la cardiopatia ischemica è la prima responsabile delle morti complessive in Italia. Ha commentato così Mario Balzanelli, che è il presidente nazionale del sistema 118, che ha anche aggiunto la regione Puglia mette in sicurezza i cittadini mediante l'operatività di un sistema 118 di livello avanzato. È uno standard in grado di assicurare che oltre l'80% dei pazienti in codice rosso venga assistito da equipaggi sanitari con a bordo medico ed infermiere, ossia in grado di effettuare diagnosi e terapia salvavita. Fondamentale, aggiungiamo, anche la capacità e la formazione di autisti e soccorritori delle associazioni di volontariato pienamente integrate nella struttura regionale del sistema 118, dati questi che confortano decisamente su di un sistema che probabilmente andrebbe solo rafforzato più che riformato, visto che tra i migliori in Italia. Grazie. 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 Grazie.